La Regione Lombardia ha approvato l'attività di trivellazione per altri cinque anni del pozzo Soresina che si trova nel comune di Castelleone. Gli ambiestalisti sono contrari. Ezio Corradi del coordinamento NoTriV Lombardia ci spiega il perché? Traramente un pozzo che si chiama Soresina dovrebbe essere nel comune di Soresina, mentre invece qui la prima cosa si tratta di un pozzo che è nel comune di Castelleone, in questa zona qui. Il problema è che oltre al fatto che, dai dati che si hanno, il pozzo Soresina è quello che ha una maggiore estrattività del gas metano in Lombardia, quasi la metà del gas estratto in Lombardia viene estratto da questo pozzo negli anni 2013-2018. Questo pozzo ricade nei dieci chilometri nella quale esiste la centrale di stoccaggio di metano di Ripalta Cremasca. Una parte si estrae, dall'altra si inietta. E il sottosuolo? Ecco, infatti il problema è proprio questo, che non si riesce a capire come mai a Ripalta Cremasca e nei pozzi di Ripalta Cremasca, tra i quali c'è un pozzo che si chiama Castelleone, quindi a dieci chilometri circa dall'impianto di stoccaggio di Ripalta Cremasca, dal pozzo di Castelleone viene iniettato metano e dall'altro pozzo che si chiama Soresina viene estratto metano. Allora, qui c'è qualcosa che non quadra e i cittadini chiedono di sapere come stanno effettivamente le cose, anche perché non si sa bene quale sia l'ente terzo che fa monitoraggio sulla sismicità prodotta da queste attività minerarie, sia di estrazione che di stoccaggio del metano. Allora, fino al 2016 sapevamo che era l'ARPA Lombardia indicata tra gli enti terzi che dovevano fare il monitoraggio della sismicità indotta. Dal 2016 a oggi non sappiamo chi fa il monitoraggio. Grazie!